Io sento di essere cittadino, questo è il grande tema della formazione. Tu sei cittadino, lo sai che questa carta, da dove viene, che cosa è costata, il sangue, non è una cosa per dire. E mentre si è conquistato Trento e Trieste e si stava perdendo tutto, le guerre non aiutano mai, sono un danno sempre pesante. Il problema qui è di una riconquista di libertà. Allora questa non ha una data per cui ti dice non conta più. Questa è quotidiana, perché è una conquista di ogni giorno, perché la libertà se uno non la vive, non la capisce. Come cittadino sento queste cose, vivo queste cose, sento di avere dei diritti e se sono cristiano, sento di doverli vivere da cristiano, quando io a domande che mi sono state fatte ho detto a me l'azione cattolica non mi ha insegnato come si fa la politica. No, mai, non ho mai trovato uno che dice vieni qui che ti spiego. Tanto meno mi ha insegnato come se ho il magistrato. Però mi hanno fatto prediche, lezioni, meditazioni, discorsi, studi per dire come si dovrebbe fare il cristiano. Poi zappi la terra, fallo da cristiano. Poi sei minatore, poi sei docente, sei ricercatore, sei studioso. Hai una qualificazione, fallo secondo questo, se ci credi. Se no fallo bene, da brava persona. Fine della trasmissione. Questa è la pagina da scrivere. Ed è una pagina che ognuno scrive per il suo pezzo, ognuno scrive per sé, vive per sé, ma che vive per gli altri. Mi insegnarono proprio in quel mondo lì che la libertà è una cosa importante che ognuno si trova a poco prezzo, ma deve pagarla per renderla viva. E deve pagarla ogni giorno. E prima si paga e si lotta per la libertà degli altri e poi per la propria. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.